Compie un anno di vita la Bicademy di Pordenone, l'accademia di formazione, la prima in Italia, sul mondo dei bitcoin e della blockchain. 12 mesi di attività in cui sono state erogate più di 300 ore di lezione, realizzati 6 corsi e formate quasi 50 persone, tra imprese, professionisti e principianti. Tra loro anche alcuni studenti stranieri che cercano orientamento e formazione sulla realtà delle criptovalute. Tra i corsi di maggior successo, quelli rivolti ai programmatori. Novità di quest'anno, il negozio Bitcoin ATM di Corso Garibaldi in centro città è stato trasferito all'interno della sede principale dell'Accademia in Villa Cattaneo, dove sarà quindi possibile scambiare moneta virtuale ed euro assistiti da personale esperto. Obiettivo dell'Accademia è infatti diffondere la conoscenza di un ecosistema tecnologico e monetario complesso, caratterizzato anche da molta inesperienza. L'Accademia ha pareggiato il bilancio e chiuso il terzo aumento di capitale, ma guarda anche al futuro con una nuova sede a Milano, città dove ha avviato anche un accordo di formazione continua con il locale tribunale. E il network si sta ampliando anche all'estero. Nuove aperture sono previste a Malta, Barcellona e Londra.